Presentati a Bari, nella sala conferenze dell'assessorato all'agricoltura, i risultati della spedimentazione digitale della Pulia. Attraverso la scansione di un QR code posto sulle bottiglie, l'applicazione è in grado di ricostruire tutta la storia dal prodotto finale e partire dai dati relativi all'ulivo monumentale di origine e alla sua collocazione sul territorio, passando per la macina in microfrantoio, imbottigliamento e produzione. Sono state interessate cinque aziende del territorio della Piana, quindi fra Monopoli e Carovigno. Ogni azienda ha raccolto da tre alberi di ulivo monumentale censiti all'interno degli elenchi della regione Puglia, senza della legge regionale 14-2007. La sperimentazione è servita per popolare questo database telematico sul quale poggia il QR code, che sarà visibile dal collarino della bottiglia dell'olio. Una progettualità destinata alla valorizzazione degli olivi monumentali di Puglia. Introduciamo un'innovazione vera che mi auguro venga percepita positivamente, in maniera più larga rispetto a quanto abbiamo fatto in quest'ultimo periodo. Le imprese hanno apprezzato, ci ha dato dei valori di produzione di olio, che possono diventare quel valore aggiunto che mettiamo a disposizione di una promozione dell'olivo secolare e dell'olio da olivo secolare. È un tassello di un mosaico molto più complesso e più importante, che riguarda tutela e valorizzazione a pieno delle nostre produzioni e delle nostre piante.